OnlineSIM è la piattaforma italiana del risparmio gestito in cui puoi investire scegliendo oltre 4.000 fondi comuni e SICAV, piani di accumulo, fondi pensione e piani individuali di risparmio, con commissioni scontate del 100% e un conto deposito a zero spese. Con OnlineSIM sei tu a scegliere il modo in cui investire, individuando i tuoi fondi in autonomia con il supporto di evoluti sistemi di ricerca, comparazione e analisi, attraverso un portafoglio modello con accesso a innovativi strumenti di ottimizzazione e check-up o con il supporto di un RoboAdvisor in grado di offrire soluzioni di investimento personalizzate in base alle tue esigenze e obiettivi. Il RoboAdvisor è un consulente virtuale che grazie a sofisticati algoritmi matematici è in grado di individuare i prodotti finanziari più adeguati alle tue esigenze, di suggerire cambiamenti di asset allocation per sfruttare le situazioni di mercato e di indicare periodici ribilanciamenti del portafoglio investito. Tramite il conto RoboBox di OnlineSIM avrai facile accesso a un servizio esclusivo e sicuro. Sarai guidato nella costruzione e manutenzione di un portafoglio fondi personalizzato grazie ad un questionario di adeguatezza strutturato e riceverai chiare indicazioni sull'asset allocation in base al tuo profilo di rischio. Potrai inoltre richiedere al tuo consulente virtuale di perseguire obiettivi di investimento temporali legati a tuoi singoli progetti creando sotto portafogli dedicati. Per ottenere il tuo conto RoboBox compila la richiesta di apertura del conto in cui potrai fornire le informazioni necessarie per ricevere un'offerta dedicata in base ai tuoi obiettivi di investimento e alla tua propensione al rischio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!